Musica 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 Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. 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 Gottì, tavi sì. Kunati tu non si chiutene batto, si, mo te tu non si chi no, daga bala diwao. Ase la kainni, ate ana kainni, ma ganuflao. Airengi si no, ate ana leenlao. Daga bala cha bichikiwa. Nugusa bala cha bichikiwa dagan. Cha bichiki dainona. Kainni, tavi sì. Takwe, tena abriye miate kainni churao. Sini isa aeti kai tabichiki dainona, tavi sì. Aeti ini aekiro hundase, miate wa shiniti, si oonii tibete kristiani, kwe israelite ya. Magano israelite manna kaesi wate hedono. Hakak kansa gumantara kyo gede. Magano israelite manna bade. Kainni, insabidoni, hige magano cha bichosi wulotaw magano afiokkira, tavi saate hasri u daafra. Hikki na hako, magano ino sa cha bichio, u min sarachalla, ha sitte, utu kido orte, ue midancho da kido orte, samitara dikyo. Daga baalate, tavi sarati, magano israelite ozo. Magano hedono zenne. Kalakamu masafatona alamete, laknemote, israelite ozo anna abrami. Kainni, oshoote atai sirchini daga baala maatsan to. Israeli magano hedono gede ikkite dehakdiu. Magano niha cha bichot awisa gatteena insa uminsay tunsote akdaare ikkiteu. Uminsay ka kalote na hakao kinkyo sakdaare ikkiteu. Magano hakoe taaga israelite ozo ra, israelite ozo leo eyi gondoro ta ba 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 e ci sono stati e domani cosa volete a questo? Signore ai christiani per fare il suo numero difikre non lo so che non sa proprio ma l'uomo è la mia ma la mia è la mia la mia è la mia a lui la mia è la mia la mia è la mia inizia a lui Il generale è il… Il generale a una altra persona. Il generale sia un'attro per la situazione. Il generale, il generale è per la situazione. Il generale di generale è un'attro per la situazione. ma ratti mannù mali tunti chobatami porca di mannù nyubusha ekyo da Yisus Christos si chi dora Yisus Christos ha chabitua ha chabitua ha chabitua di ma tammè kiesha chabitua kiki wolo taw lè lò chabitua ninkè Christos ha avit non mori non mori ma tafma yannunke kai gotti tawisi tawisi ma tiwisi un tata muotichu yisus Christos ilalwana sabbaki vese no tenne tawisi kileo kitne alamete chabitua di alamete chabitua di chabitua di nè mannù albani taw dancialo so nela e imanunha maganu nè galata tawisi umipetua di lamè honse tawisi Ora si vedete il primo numero di questi lavori, quindi i passi. In questo caso a tutti i lavori, non ti c'è la ma la pagina, ma la pagina, ma la pagina. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 caro di trauma 10 alamora tunsia kero anna di carnavi adoro e lo so my locali locali a wabba fit nomori ninkata vintemoto tunsicudero ninkino zonke lonsumo kida fra ti tenne alame tunsicubo lo so kello L'euro vengono a un lavoro, l'euro vengono a un lavoro. A questo lavoro, l'euro vengono a un lavoro, l'euro vengono e le persone connessano vengono a us樓o. Non sono scoperto senza sinistra. Se ne succede, non si è un luogo. Non si è bambini. L'euro è tutta la chiusura. Ma sceglione, ma non è finita il miglioramento. da chi ci ha parlato della rimanda in particolare, mancina dell'esercito. Dopo la risposta, la risposta, è sulla riecina, o non ci ha parlato la risposta. E non ci ha parlato di una risposta. La risposta di una risposta è la risposta di più. Bene, e c'è la risposta di una risposta di più. Non c'è tanto. Quindi, perché la risposta con la risposta di più? Sì, ok, è arrivato il risposta di più. Israele obbutatabete chrisiane usciantinovono ka'e t'abitxose t'abitxarati. Israele Isaiyafi l'eana mittete e otte ana laknemu konneti aate ka'e t'abitxone t'abitxate. L'eana mittekite ne? L'eana mittekite ful Isaiyafi l'eana mittee laknemuote mittena lamete ana. L'eana mittee laknemuote mittena lamete ana. Mwote chuu maganu ayya ni ane ana no. Butanete danchaduduo kule mogede maganu buuri no e. Wudaninthahi ikka miore siste mogede. Kafadaan teori rak wulapo e mogede. Usraan teori tre mogede maganu soy no e. Batam teota maganu batamino ha maganu dro. Mwote chuu maganu rabbi trao barra. Kule mogede. Litaare jawaan chiche mogede maganu buuri no e. Eja. Kuni tini mathalo ayya daafra juwek da yinu mwaha e kiro. Tini mathalo. Mwesi chuu Yesus si daafra juwek da mathalo. Mwesi chuu Yesus si daafra juwek da mathalo. Mwesi chuu no e. Eja. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il mio corso gratuito è www.mesmerism.info Così effettive quali sarebbe da questa parte, si è più facile, non è più facile, ma non può dire, che non è più facile, non sono più facile, ma non è più facile, se c'è quello che si facesse, e far questo l'abbiamo, non è più facile, non è più facile, Quindi grazie a tutti i nostri amici. e vedайте tutti gli ascolti. Tutti gli ascolti. Gli ascolti e gli ascolti. Non si risolva, non si risolva, ma gli ascolti e gli ascolti. Di me non si risolva, ma non si risolva. Per essere morti di Gesù Cristo e gli ascolti di ascolti. che non serve parte del soltario del soltario se cosa è che non serve parte del soltario ma solo è sotto la sua luce se c'è il soltere Tre, manno, esho, affragete. Ciò buttare i tre, manno, esho, affragete. A so'yà, quando hai chiuso presosi bura mioho, bura mioho, ma'era bura mioho, ma'era bura mioho, quale mai hanno, litare di avanti, c'è nuca. Udani in tahi, kamio, resi semo, vedi. A fare anche noi, da, ulappo è morto. A fare anche noi, batami noha, ma'era bura mioho. Kulemo, dire. Serairete ozera, batami noho, ma'era bura mioho, ma'era bura mioho, serairete. Serairete ozho, onthao diru, onthao diru, onthao diru, gaten sani, miti chumanji, arrame, itare hoge, galava hoge, l'hoge, aseta, anniti, irrisite, irrisite diru, anui, annunza, akha kate batto diru. Arame kaiate, aske akiro, onthao diru gaten sani, atte, taga karame, irrisite, barifua e lekibara, kule anu, ya, kule anu, E' un'umitita e' un'umitita. E' un'umitita e' un'umitita. E' un'umitita e' un'umitita. E' un'umitita. E' un'umitita 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 e' un'umitita. 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 grazie a tutti maganu rabba dafra che nemoote diman wajisina e usnana dikio kulae no maganu halalu yohan kina halalu yohan mani kalaka momura avyo dafra dafronke amfeto bonke amfeno maganu marini dandino mogeisha unbu morokatnai isiladuak no moakke no jadononka ueno kena elto baala minsu moakke baanano yohan giddete ayano pijaswa makani nah e saiyahfi matafi urakati tenne Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.